Con l'impegno da parte del Governo nel trasferimento di 16 milioni di euro a copertura delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute dal Comune dell'Aquila a seguito del sisma, sarà comunque garantita la possibilità di impostare un bilancio rispondente alle esigenze della popolazione. Si esprime così la maggioranza di centro-sinistra del Comune dell'Aquila che sottolinea che nonostante le difficoltà incontrate ci si accinge ad approvare un bilancio in anticipo rispetto a quanto fatto negli anni precedenti e meno oneroso per i cittadini. All'indomani infatti dell'annuncio del sindaco Massimo Cialente dell'impegno del Governo per lo stanziamento di 16 milioni di euro, 2 milioni in meno rispetto alla cifra richiesta che era di 18, la maggioranza si trova ricompattata e per il Consiglio Comunale sembra essere scongiurata la causa di scioglimento. Era fondamentale avere una comunicazione dal Governo che è arrivata prima con una telefonata e poi con una lettera firmata dai sottosegretari Claudio De Vincenti e Paola De Micheli. Io ho sempre avuto la cognizione e anche un po' il rammarico di dover chiedere ancora soldi al Paese perché credo, e questo è un appello che faccio agli aquilani, è arrivato il momento anche di mostrarci un po' di quell'orgoglio tutto abruzzese, aquilano, di dire che ce la stiamo facendo solo, anche perché credo che, io sto chiedendo adesso della Commissione d'indagio seriamente, faccia il raffronto Aquila-Friuli, mettiamoci alla prova se quello è stato il migliore, nelle condizioni date facciamo questo raffronto. C'era difficoltà, oggettivamente abbiamo chiuso a 16 milioni di euro. Anche l'Italia dei Valori esprime soddisfazione per la promessa del governo di trasferire il contributo straordinario di 16 milioni di euro. La compagine si augura che sia così finita la sceneggiata sul bilancio preventivo messa in campo dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e da qualche assessore, con attacchi al governo Renzi, bravo la mattina e cattivo la sera. Anche Chiara Mancinelli, l'esponente del circolo 99 di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale dell'Aquila, si esprime sulla controversa vicenda del bilancio di previsione 2016 dell'Aquila. All'indomani della sbandierata decisione del governo di assegnare al Comune i fondi salva bilancio, dice in una nota, prevedibilmente l'importo di 2 milioni di euro derivante dall'aumento dell'Atari, essendo già stato deliberato, è stato detratto dai fondi che lo Stato si è impegnato avversale nelle casse comunali, che sono passati appunto da 18 a 16. Senza contare che saranno poi tagliati comunque molti servizi, in quanto il bilancio di previsione completo richiedeva 24 milioni di euro.